Don Perinetti, domenica prossima Tevigio ma tutta la Valdivara in festa per un evento davvero straordinario. Che cosa succederà? È l'incoronazione della statue della Madonna che nel 1718 venne portata a Tevigio e inaugurò, diremmo così, quella tradizione di fede della Madonna di Caravaggio che ha visto lungo i secoli sia verso la valle del Taro come la Valdivara a correre, diremmo, onorare la Madonna con tanta devozione perché tu tieni conto che ancora oggi facciamo sei messe e c'è un continuo concorso di confessioni e di preghiere rivolte alla Madonna, quindi è un avvenimento straordinario in quanto è una testimonianza di fede che dura nei secoli. Ecco, un evento davvero straordinario e per evento straordinario anche ospiti davvero straordinari, un cardinale e il nostro Vescovo, chi sarà? C'è il cardinale Vigliò, Antonio Maria, che è anche un amico e poi il nostro Vescovo perché davvero sentiamo vicino alla presenza di questo Vescovo e noi ne siamo riconoscentissimi anche perché ha accettato che venisse il cardinale, quindi siamo due volte riconoscenti per quanto si metta a disposizione perché è sempre pronto a risponderci dinanzi ad esigenze pastorali. Domenica pomeriggio, allora il giorno di festa, com'è il programma? Sì, allora riceveremo il cardinale alle 16.30, Monsignor Paletti farà una presentazione per la sindaca e poi ci sarà solenne pontificale, saranno presenti tutte le autorità, abbiamo invitato il mondo, anche i sindaci della Val di Taro perché è appunto un santuario che a piedi da Borgo Taro e da giù dalla Valata del Taro venivano al santuario della Madonna di Caravaggio a Tevicio. La celebrazione? Alle ore 17 inizia il pontificale e poi ci sarà l'incoronazione durante la messa, una corona d'oro offerta da Consorzio Campo del Vescovo in riconoscenza l'assistenza che la Madonna in questi vent'anni ci ha dato per il centro terapeutico Monsignor Silvestri di Rocchettavaro. Un momento di festa, un momento di fede, un momento di preghiera, ovviamente tutti sono invitati. Ah, certamente, l'invito è rivolto a tutti perché dove c'è Maria Maria ci deve essere la chiesa e la Madonna sempre dispensa, grazie mi pare, a piene mani. Noi lo sappiamo perché con gli istituti che abbiamo, se non ci fosse stata lei, forse non saremmo giunti alla meta a cui oggi siamo arrivati.